Su richiesta del sindaco di Agropoli, il distretto sanitario ha organizzato per lunedì 13 gennaio un open day vaccinale dedicato a chi ha il Green Pass scaduto o in scadenza prima del 13 febbraio compreso. L'appuntamento è in programma presso il centro vaccinale di Via Taverne. Per accedere sarà necessaria la prenotazione inviando una mail all'indirizzo vaccinazioni-comune.agropoli.sa.it. Nel messaggio bisognerà indicare il proprio nome, cognome, numero di telefono, data di scadenza del Green Pass e uno dei seguenti orari in cui si preferirebbe sottoporsi a vaccinazione 15, 16, 17, 18 oppure 19. In caso di indisponibilità verrà comunicato un orario diverso. Sarà necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria. Dal 1 febbraio la durata del Green Pass sarà ridotta a sei mesi. Inoltre il certificato verde servirà per accedere a numerosi uffici pubblici, attività o servizi, ha spiegato il sindaco. Per questo abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini richiedendo un open day dedicato a quanti hanno il Green Pass in scadenza o già scaduto. La campagna vaccinale sta proseguendo nel migliore dei modi, ha aggiunto il primo cittadino. Abbiamo superato l'80% di prime dosi e ci avviciniamo al 60% di terze dosi. Un risultato straordinario. Nelle prossime settimane, anche in base all'andamento della campagna vaccinale, saranno organizzati altri open day. Proseguono comunque le sedute su convocazione per le dosi booster. È necessaria la prenotazione sulla piattaforma della regione campagna per le prime dosi, anche pediatriche.